Vittorio Fossataro ora è un rosetano onorario. Sabato mattina il sindaco Sabatino di Girolamo e il presidente del Consiglio Comunale Teresa Ginobble hanno conferito la cittadinanza berimerita allo storico dirigente del Rosetto Sharks scomparso il 4 novembre scorso. La cittadinanza è stata conferita in esecuzione della volontà dell'assise civica del comune espressa nella seduta del 27 settembre per aver contribuito a rendere più alto il prestigio di Rosetto degli Abruzzi mediante l'assidua e disinteressato per osità volta all'organizzazione e alla realizzazione di iniziative di carattere sportivo, sociale, culturale e turistico. Vittorio Fossataro è stato questo, un protagonista della vita della nostra città per decenni. Un uomo che non si è mai sottratto, assolutamente mai sottratto a rendersi partecipe di tutte le iniziative in campo lavorativo, in campo culturale, in campo sportivo a tutte le iniziative che si svolgevano sul Rosetto. Un uomo che ha amato Rosetto e che Rosetto aveva il dovere di ricordare adeguatamente. Dopo gli interventi dei consiglieri Emanuela Ferretti, Marco Angelini, Ennio Pavone e Mario Lugnes che hanno voluto personalmente omaggiare Fossataro, il presidente del Consiglio Comunale Teresa Ginobile e il sindaco Sabatino Di Girolamo hanno consegnato la rosa d'oro e la pergamena ai familiari presenti. Il mosaico degli oleandri, altro fiore simbolico di roseto, realizzato da Bruno Zenobbio, è stato consegnato invece dal consigliere Rosaria Ciancaione.